Andrea Renzi, il ritorno dal torneo a città di Ferentino, una sconfitta e una vittoria per la palla Canesso Trapani, come è andata? Credo sia andata abbastanza bene, abbiamo disputato due buone partite, nella prima contro Roma probabilmente siamo riusciti a imporre il nostro gioco un po' di più e l'abbiamo portata a casa ieri contro Ferentino loro sono stati molto bravi, insomma sono riusciti a portare a casa la partita è stata comunque una prestazione positiva, credo che ci siano cose buone dalle quali ripartire per continuare a lavorare, arrivare pronti contro Megna il 5 ottobre Per quanto può contare un titolo di MVP del torneo, certamente una condizione già buona per quanto ti riguarda, ovviamente, ma sempre al servizio della squadra, immaginiamo Ma sì, ovviamente, tutto quello che faccio è sempre al servizio della squadra ieri è arrivato un titolo di MVP, a me ha fatto ovviamente piacere ripeto, c'è una buona condizione da parte di quasi tutta la squadra adesso dovremmo nei prossimi giorni lavorare per inserire Kedrick non so quando rientrerà e non è compito mio saperlo credo che comunque stiamo lavorando bene e credo che arriveremo pronti vi aspettiamo ovviamente al palazzetto, numerosi come al solito ciao